Buon pomeriggio e ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con la nostra maratona Donne e lavoro. In diretta non sono da sola, do il benvenuto all'Avvocato Michela Vecchi. Buongiorno Avvocato, penalista titolare dello studio legale Vecchi. Vi chiederete probabilmente perché la presenza di un Avvocato penalista in questa lunga maratona che dedichiamo al tema Donne e lavoro. Ebbene perché come abbiamo avuto modo di affrontare nelle ore precedenti il lavoro soprattutto in questi ultimi due anni ha rappresentato una vera croce per le donne perché l'occupazione femminile è stata messa in ginocchio da questa lunga pandemia. Ma non è l'unico motivo che fa pensare al tema Donne e lavoro. Infatti a me continuano a essere preoccupanti anche altri dati che ci vengono dalla presenza costante di violenza sul luogo del lavoro e ai danni delle donne. Leggerei con voi prima di entrare nel merito di questa tavola alcuni dati che provengono da Fonte Istat. Secondo l'Istat i luoghi di lavoro sono al quarto posto per fattore di rischio dopo i mezzi pubblici, la strada e i pub, i ristoranti, tutti i luoghi di ritrovo. Bene, nel 2021 lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro numero 190, Avvocato, che in effetti rappresenta veramente una svolta in questo senso. Infatti per la prima volta quelli che sono i crimini e la violenza commessa sul luogo del lavoro viene riconosciuto dallo Stato italiano come un delitto contro l'umanità, un attentato alle pari opportunità delle donne. Da un punto di vista penale, cosa cambia soprattutto se qualcosa cambierà rispetto a quello che è l'ordinamento vigente? Beh, io mi auguro che la ratifica da parte dell'Italia di questa Convenzione Internazionale costituisca l'occasione definitiva per introdurre nell'ordinamento giuridico italiano delle norme ad hoc che disciplinino e reprimano la violenza e la molestia sui luoghi di lavoro. Ci sono state negli anni molte spinte europee del Parlamento europeo che ha adottato diverse risoluzioni e che ha tentato di indurre gli Stati membri a rivedere la loro legislazione in tema di violenza e di molestia sulle donne, che hanno costituito più o meno lettera morta, così come i diversi progetti legislativi che hanno cominciato ad affiorare dal lontano 2009 con la famosa proposta turco e a seguire nel 2014, nel 2015, che però poi non hanno mai avuto una concreta attuazione, per diverse ragioni a mio modo di vedere che dopo vedremo. Io penso che la ratifica di questa Convenzione debba costituire l'occasione per il nostro legislatore di introdurre una norma specifica ad hoc, penale ovviamente, perché io sono una penalista, che reprima la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro e che per un verso dia dignità definitiva a un bene giuridico già protetto dalla nostra Costituzione, che è l'integrità psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici e che per l'altro verso introduca una definizione giuridica di violenza e molestie sessuali che a tutt'oggi nel nostro ordinamento non c'è. Se perdiamo quest'occasione penso che perderemo una grande occasione, perché ad oggi io ritengo che il quadro normativo sia del tutto inadeguato a proteggere e a tutelare le lavoratrici rispetto a questo tipo di problema. Abbiamo un quadro normativo, anzitutto che non prevede delle norme ad hoc che disciplinino questo fenomeno e quindi i giudici, la giurisprudenza è stata costretta alla bisogna a recuperare norme già esistenti nell'ordinamento giuridico per cercare di dare adeguata tutela alle vittime, ma queste norme sono talmente inadeguate che non sempre consentono l'adeguata tutela. Ora io ci terrei a sottolineare due cose, il bene, ogni norma penale tutela un bene giuridico e quindi così come il furto tutela il bene giuridico patrimonio o le lesioni tutelano il bene giuridico integrità fisica, ci vorrebbe una norma ad hoc che tutelasse espressamente il bene giuridico integrità psicofisica dei lavoratori che è già protetto dalla nostra Costituzione e dalle fonti sovraordinate, si dice di matrice euro-unitaria, che tradotto significa che la nostra Costituzione protegge la personalità morale dei lavoratori agli articoli 2 e 4, perché la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove espleta la sua personalità e all'articolo 4 la Costituzione prevede che ciascuno debba porre in essere un'attività o una funzione che aiuti a promuovere il progresso spirituale e materiale della comunità. E per l'altro verso l'integrità psicofisica dei lavoratori trova espresso riconoscimento costituzionale negli articoli 32 e 41 della Costituzione, dove per un lato si dice il diritto alla salute è un diritto inviolabile dell'individuo, del lavoratore e un interesse della collettività e per l'altro verso si pone un limite all'iniziativa economica privata che non può essere posta in essere o promossa laddove crea un danno alla dignità dei lavoratori e alle libertà umane. Tutto questo è sancito da molto tempo anche a livello europeo nella famosa carta di Nizza che è la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che è stata adottata sin dal 2000 e anche nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione e protezione della violenza contro le donne. Quindi se questo è il quadro normativo, la Convenzione OIL tradotta così, ratificata nel 2021, costituisce il punto di approdo definitivo che deve indurre il legislatore, a mio modo di vedere, ad uscire da quello stato di torpore che lo ha caratterizzato negli ultimi anni e ad introdurre una norma specifica. Una norma che deve avere un precetto molto chiaro dal mio punto di vista e che deve essere in grado di ricomprendere tutta quella variegata serie di condotte che può integrare le violenze e le molestie sessuali. Perché scendendo un pochino più nel concreto, senza dare così etichette che poi magari fanno mal comprendere i fenomeni, ci sono mille condotte che possono integrare questo tipo di reati. Si va da condotte di carattere tipicamente materiale, anche a sfondo sessuale, perché ci possono essere condotte che sfociano in un'aggressione diretta nei confronti della vittima e quindi in un contatto fisico, condotte materiali non di tipo sessuale, ma comunque parimenti pericolose e insidiose per la dignità e la tutela delle lavoratrici, sopraffazioni di carattere morale, vessazioni di carattere psicologico, condotte che possono essere plurime, cioè tante condotte poste in essere ai danni di un solo lavoratore, piuttosto che un'unica condotta, che però la Convenzione apre il varco ad Iran con un'unica condotta, valuti lo Stato se può costituire reato, mi vengono in mente quelli che vengono considerati fenomeni di dimensionamento piuttosto che di trasferimento improvviso, che si concretano in un'unica condotta, ma che pure, come dire, sono in grado di compromettere l'equilibrio, la serenità e la stabilità psicologica del lavoratore e inoltre queste condotte non solo possono essere poste in essere dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, ma anche dagli stessi colleghi. Quindi tutta questa categoria così eterogenea di condotte empiriche, a mio modo di vedere, deve essere ricondotta in un'unica norma incriminatrice, chiara e precisa, che sia in grado di abbracciare l'eterogeneità di queste condotte e che finalmente riconosca che la molestia e la violenza nei luoghi di lavoro, lede il bene giuridico, integrità psicofisica dei lavoratori. Prima le ho detto perché ad oggi non è stata introdotta una norma di questo tipo e cerco di essere il meno tecnica possibile, però su questo dobbiamo confrontarci. Probabilmente sotto un profilo squisitamente tecnico, perché a me non interessano in questo momento le valutazioni politiche, si è avuto timore di una sorta di panpenalizzazione, cioè i penalisti sono sempre molto restii all'introduzione di nuove ed ulteriori fattispecie di reato quando quelle già esistenti sarebbero di per sé stesse idonee a reprimere certi fenomeni. Una frase bellissima di un antico maestro diceva che il diritto penale è un arcipelago di divieti in un mare di libertà e per questa ragione si dice che esistono già norme che in un qualche modo possono tutelare il lavoratore rispetto alle violenze e alle molestie sessuali. La mia risposta dopo una lunga riflessione è che io condivido il timore per la panpenalizzazione, ma non nel caso specifico, perché io trovo che nel 2022 sia inaccettabile che nelle aule di giustizia si sia costretti a ricorrere a norme che proteggono beni giuridici del tutto diversi per tutelare questi fenomeni. Ad oggi per tutelare le violenze e le molestie sui luoghi di lavoro, quelli non di carattere, cioè che non sfociano in un'aggressione fisica perché quelle trovano già tutela nella violenza sessuale, ma in tutte quelle condotte che non comportano un'aggressione diretta si vanno a tirare fuori i reati più svariati dal maltrattamento in famiglia all'abuso dei mezzi di correzione che tuttavia sono norme ideate e che sono state varate per proteggere un bene giuridico tutto affatto diverso, rientrano nei delitti contro l'assistenza familiare, il bene giuridico da proteggere era la famiglia, lei capirà con quante difficoltà applicative norme di questo tipo possono essere poi asservite alla tutela di un lavoratore o di una lavoratrice che subisce e patisce delle violenze e delle molestie. Oppure si va a reati diversi come lo Stolkin, gli atti persecutori, che è un delitto contro la libertà morale che pure viene utilizzato ad oggi per reprimere questi fenomeni, però anche questo reato ha delle difficoltà applicative per poter disciplinare la violenza e la molestia sui luoghi di lavoro perché ha dei requisiti di tipicità molto stretti, per esempio si dice tu devi avere il pericolo, la paura per l'incolumità tua e dei tuoi cari. Ora questo è più facilmente realizzabile in un contesto che non sia quello lavorativo, oppure ci sono altre norme ancora che vengono utilizzate, la violenza privata che è un delitto contro la libertà morale, oppure ancora l'estorsione che è addirittura un delitto contro il patrimonio, ad esempio l'esempio tipico dell'estorsione quando il datore di lavoro velatamente minaccia il licenziamento nei confronti del lavoratore se costui non si adegua alla retribuzione proposta dal datore di lavoro che spesso è molto inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali, però come dire tutto l'armamentario giuridico di cui ad oggi possiamo usufruire per reprimere questi fenomeni è inadeguato sia perché protegge beni giuridici diversi dall'integrità psicofisica del lavoratore che invece deve assumere una dignità autonoma, sia perché questi reati sono formulati con una tecnica di formulazione della fattispecie che è inadeguata rispetto alla tutela di questi fenomeni, il che peraltro ha comportato una sorta di giurisprudenza gius creativa, cioè poiché la norma non esiste e la giurisprudenza ha tentato di asservire le norme già esistenti per reprimere questo genere di fenomeni, con due esiti in fausti dal mio punto di vista, il primo è che la giurisprudenza ha tentato di sostituirsi al legislatore, il che in uno stato di diritto non può essere, perché non esiste, non può esistere la giurisprudenza gius creativa, il secondo è che questo tipo di atteggiamenti crea pregiudizi, di interpretazione, crea pregiudizio anzitutto alla parte offesa, cioè non può essere il giudice ad accogliere o negare la tutela penale a un lavoratore a seconda della sua personale interpretazione della norma, ecco perché dal mio punto di vista è fondamentale introdurre una norma e mi permetto di dare qualche indicazione pratica su questa norma, perché ci ho riflettuto a lungo, io anzitutto ritengo che debba essere tipizzata in modo molto precisa la condotta di molestia o di violenza, perché ad oggi non c'è una definizione giuridica, il legislatore deve dirci quando ci sono molestie e violenze sul luogo di lavoro in un modo preciso e in grado di comprendere tutte quelle mille condotte che da un punto di vista empirico possono integrare il reato. La Convenzione OIL a cui lei si è riferita definisce le violenze, le molestie sul luogo di lavoro come tutte quelle pratiche o quei comportamenti inaccettabili, questo dice, o la minaccia che quei comportamenti vengano posti in essere in via abituale o anche solo singola, che possano causare o abbiano lo scopo di causare un danno fisico, psicologico, sessuale, economico al lavoratore. Ora, io penso che da un punto di vista di legislazione interna si possa andare oltre e si possa mettere una sorta di benchmark nella formulazione della norma dicendo, ma in fondo questi comportamenti devono essere unificati da un criterio e cioè, a mio modo di vedere, quello che le condotte siano poste in essere contro la volontà della vittima. Questo già costituirebbe dal mio punto di vista un criterio oggettivo per tipizzare le condotte, dopodiché però il legislatore dovrebbe andare molto oltre, perché con una norma specifica che reprima questo genere di fenomeni potrebbe introdurre, per esempio, delle pene pecuniarie molto pesanti che sono profondamente dissuasive nei confronti del datore di lavoro, spesso più che una sanzione non pecuniaria che magari non viene neanche scontata. Si potrebbero introdurre degli ulteriori paletti, tipo l'obbligatorio risarcimento della vittima per concedere all'imputato di accedere a riti alternativi, patteggiamenti, giudizi abbreviati, cioè a dire se l'imputato vuole accedere ad un giudizio che gli dà dei benefici in termini di pena, ha da pagare obbligatoriamente la parte offesa prima di accedere a quei riti, piuttosto ancora che introdurre delle pene accessorie importanti e che hanno, dal mio punto di vista, una grande efficacia dissuasiva, perché se come pena accessoria alla condanna per quel tipo di reato venisse introdotta, ad esempio, l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche, non puoi più fare l'amministratore, per esempio, o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ad esempio, non puoi partecipare alle gare d'appalto. Io penso che pene accessorie di questo tipo avrebbero un'efficacia largamente dissuasiva e quindi inevitabilmente andrebbero a fortificare la tutela delle lavoratrici che ne hanno bisogno. Certamente perché si andrebbe a colpire chiaramente il business, come dice lei, la pecunia. Prima citava lo stalking come reato a cui si ricorre, per esempio, quando si parla di mobbing. Come sappiamo, il mobbing, ahimè, non è assolutamente disciplinato né da un punto di vista giuslavoristico né da un punto di vista penalistico, motivo per cui molto spesso muore nelle nostre aule oppure appunto si fa ricorso a una fattispecie totalmente diversa come quella dello stalking che, come diceva giustamente, chiama in causa anche una persecuzione, un possibile danno nella sfera intima familiare che non sempre è correlata al lavoro. Quindi quello che le chiedo è la ratifica di questa convenzione. Potrebbe dare un'accelerata anche sul fronte del riconoscimento di quel tipo di reato oppure dal suo punto di vista è più plausibile come affermava che il mobbing poi rientri in una fattispecie più ampia di reati contro le donne, i danni delle donne. Quali scenari vede? Vedo che lei ha capito perfettamente il mio pensiero. Il mio personale pensiero è che il mobbing sia un sottogruppo delle violenze e delle molestie sul luogo di lavoro e pertanto ritengo che se venisse introdotta una norma ad hoc di carattere generale sarebbe molto più efficace in termini di tutela delle vittime perché potrebbe reprimere fenomeni diversi dal mobbing. Guardi, oggi tutti parlano di mobbing e proprio perché non c'è una definizione giuridica condivisa si finisce col fare grande confusione. Mi permetto di dire che dobbiamo essere semplici. Il mobbing è un sottoinsieme di un fenomeno devastante che sono le violenze e le molestie sui luoghi di lavoro. Il sottoinsieme cosa significa? Che è caratterizzato da due caratteristiche, e cioè comportamenti reiterati volti a indurre il lavoratore a dare le dimissioni. Questo è il mobbing. Dopodiché, come sempre, da un punto di vista empirico, mille sono le condotte che possono integrare il mobbing. Però siccome si tende a identificare il mobbing con le violenze e le molestie sui luoghi di lavoro, io mi dissocio rispetto a questo. Il mobbing è un fenomeno gravissimo, però è un sottoinsieme. Quindi nel momento in cui questa convenzione desse il destro al legislatore che purtroppo fino ad ora ha sonnecchiato nell'introdurre una norma speciale, inevitabilmente verrebbe represso e punito anche il mobbing. Lei vede il disagio in cui gli operatori del diritto si trovano, è abbastanza palpabile. Nel 2021 le sezioni unite di fronte a un ricorrente che diceva che il mobbing costituisce un illecito civile, gius lavoristico, nulla c'entra con i reati. Sono intervenute dicendo no. Il mobbing può essere anche represso con lo stalking perché è l'unica figura di reato più attagliabile. Gli atti persecutori, l'articolo 612 bis ha la condizione che però siano integrati gli elementi previsti da quella norma. Ma tra gli elementi previsti da quella norma per esempio c'è l'essere costretti a cambiare le proprie abitudini di vita o la paura per l'incolumità proprio dei propri parenti che come lei ha già evidenziato sono difficilmente realizzabili in un luogo di lavoro. Quindi io ritengo che una norma doc tuteli tutti i fenomeni. E aggiungo un'ultima cosa. Da un punto di vista empirico criminologico spesso le molestie sessuali costituiscono l'anticamera del mobbing. Che cosa accade? Tu molesti una lavoratrice, la provochi, fai delle avance, dopodiché le tue avance sono respinte e a quel punto comincia il fenomeno vero del mobbing e cioè il datore di lavoro o anche un collega tenta di fare di tutto con comportamenti vessatori e reiterati per indurre a far sì che tu ti allontani dall'ambiente di lavoro. Quindi un'unica norma in grado di abbracciare tutte queste fattispecie penso che sarebbe la soluzione migliore che il nostro legislatore potrebbe ideare. Avvocato, prima di lasciarla abbiamo ancora 5 minuti quindi le faccio una domanda. Perché abbiamo parlato della violenza sul luogo di lavoro ma nel 2019 il legislatore ha fatto dei passi avanti anche sul fronte delle violenze domestiche, acquendo dei reati, tra questi anche il divieto di avvicinarsi alle donne in tutti i luoghi frequentati, quindi io incluso chiaramente il luogo di lavoro. Questa norma del 2019 aggiunta e sommata alla ratifica della convenzione, secondo lei fa cambiare l'approccio complessivo rispetto al modo di intendere il luogo di lavoro? Sì, mi permetto solo di fare una precisazione, i reati introdotti dalla legge del 2019 nota come codice rosso sono stati una serie di reati tra cui la repressione penale della violazione del divieto di avvicinamento ad una parte offesa nei luoghi da essa frequentati, quindi casa, quindi luogo di lavoro. Quindi già questo ha costituito sotto questo punto di vista un rafforzamento della tutela, la convenzione sotto questo specifico punto di vista non penso che possa aggiungere molto, se non acquire sempre di più la sensibilità verso il fatto che il luogo di lavoro è un luogo dove si esplica la personalità dei lavoratori e delle lavoratrici e che costoro hanno il diritto di vivere in modo sereno quel luogo di lavoro per la formazione e lo sviluppo della propria personalità e per lo sviluppo e per il progresso spirituale e materiale della società. Questo deve essere molto chiaro e io penso che la convenzione su questo abbia segnato una svolta epocale che dobbiamo prendere in considerazione e che il legislatore non credo si possa permettere di ignorare. Un faro che non deve assolutamente essere spento su quello che è il progresso anche legislativo italiano. Io ringrazio l'avvocato Michela Vecchi per essere stata con noi in questa lunga maratona. Grazie avvocato. Grazie a lei. Una breve pausa pubblicitaria e torniamo a brevissimo in diretta con Donne e lavoro.